Sono Antonella Ferrara, realizzo gioielli dal 1984, la mia creatività si rivolge ai metalli nobili e alle creazioni pezzi unici. Negli anni ho affinato oltre la tecnica che mi viene dal mio percorso formativo in ambito artistico, in particolare la mia attenzione e la mia sensibilità nel creare ogni collezione ispirandomi a temi diversi. Quindi incontro la mia clientela e mi rivolgo a chi è attento alle peculiarità della gioielleria ma anche dell'oggetto d'arte e della unicità. Grazie per la visione!